Giacob & Co. Ghost Collection, l'arte dell'innovazione. Nel 2011, il celebre designer Jack Fournier, in collaborazione con Ivan Arpa, una figura di spicco presso Giacob & Co., ha dato vita a una nuova collezione di orologi, il Ghost. Una delle caratteristiche più distintive è la cassa a cinque lati. Giacob & Co. ha dato grande attenzione ai dettagli e alle opzioni di personalizzazione nella Ghost Collection. Ad esempio, uno dei modelli presenta una cassa in acciaio PVD, con una lunetta ornata di diamanti baguette, oppure ci sono anche lunette con diamanti alternativi, così come cassa in acciaio lucido e persino versioni con dettagli in oro. Sorprendentemente, è stato introdotto anche un modello con una lunetta in fibra di carbonio, conferendo all'orologio un aspetto sportivo e accattivante. Tuttavia, è importante notare che le versioni con lunetta di diamanti sono particolarmente preziose. Un altro aspetto che distingue il Ghost è la sua dimensione. La cassa larga 47 mm può sembrare imponente, ma è incredibilmente comoda da indossare. Tutti i nuovi orologi, G, di Jacob & Co. Sono equipaggiati con movimenti al quarzo, garantendo una precisione impeccabile. Un altro punto forte del Ghost è il suo movimento digitale, composto da soli 103 componenti, il che ne fa un orologio sorprendentemente leggero, con un peso complessivo di soli 12 grammi. Inoltre, inserire un movimento così leggero ma allo stesso tempo complesso e un sistema GPS in una cassa spessa appena 14 mm è stata una sfida tecnica straordinaria. Il movimento del Ghost è dotato di sei schermi, di cui uno centrale mostra il logo di Jacob & Co. I restanti cinque schermi sono multifunzionali e in grado di visualizzare una serie di informazioni, tra cui l'ora, il calendario e la funzione cronografo. Grazie a tutti.